La nostra missione è tradizione in evoluzione. L'arte è esprimere quello che hai dentro. Trasmettere un'emozione negli oggetti che si creano. Vuol dire cercare sempre di fare meglio, di migliorare, non di peggiorare, ma quindi se devi fare una cosa la devi fare più bella di come è stata fatta in precedenza. L'arte è esprimere quello che hai dentro. L'arte è esprimere quello che hai dentro.